La Borsa Mercato Lavoro Il 6 febbraio Il cacciatore muore in seguito a un colpo partito accidentalmente dal suo fucile, era un autista della CAP 6 pantine gialle per ricordare Giulio Reggeni, ecco tutte le iniziative in programma sabato Buongiorno, ben trovati a questa nuova edizione del nostro TG Dopo 10 anni di assenza torna a Prato la Borsa Mercato del Lavoro Il 6 febbraio alla Camera di Commercio chi cerca lavoro nel settore turistico ricettivo e della ristorazione potrà incontrare le aziende alla ricerca di personale Arriva l'appuntamento interamente dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo Giovedì 6 febbraio dalle 10 alle 14 le porte dell'auditorium della Camera di Commercio di Prato si apriranno alle aziende del settore della provincia e a chi vuole inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro 16 le imprese che hanno già dato la loro adesione e incontreranno i candidati Principalmente le aziende che partecipano sono alberghi, sono case per vacanza, attività di somministrazione, bar, ristoranti e alcune agenzie che fanno attività di animazione Le figure di sala, le figure di cucina, le cameriere a piani e il personale che si occupa di commercializzazione sono le figure di maggior ricerca da parte delle aziende E quindi è su queste principalmente sulle quali ci si focalizza Chi cerca lavoro ed è interessato a partecipare alla Borsa Mercato Lavoro deve effettuare la pre-iscrizione gratuita sul sito www.bml2020.it e presentarsi il giorno dell'evento Un comparto, quello del turismo e dell'indotto, fra cui la ristorazione, che a Prato è in crescita Noi siamo l'ambito che cresce di più a livello regionale, abbiamo avuto una crescita del 2,8% e anche e soprattutto nelle comunità straniere, nella comunità cinese e nella comunità statunitense L'obiettivo è quello di dare sempre più visibilità alla nostra città perché la nostra città da un punto di vista turistico non ha niente da invidiare alle altre città della Toscana Ha una carenza da un punto di vista di visibilità Sicuramente il settore è un settore molto interessante e che sta creando posti di lavoro Purtroppo bisogna far sì che venga maggiormente sostenuto in modo che i posti di lavoro possano ancora continuare a crescere nei prossimi anni Noi come ente bilaterale stiamo monitorando il settore appunto a 360 gradi Cercando di capire anche attraverso la Borsa Mercato del Lavoro quali possono essere gli eventuali fabbisogni che le imprese manifestano e che i lavoratori in qualche modo portano con sé L'ente bilaterale non è soltanto organizzazione di incrocio domanda offerta lavoro ma anche organizzatore di corsi formativi che possono essere appunto utili proprio per andare incontro ai fabbisogni che si manifestano Un cacciatore di 53 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio in un bosco in località Mangona nel comune di Barberino del Mugello La vittima si chiamava Luca Manciulli, risiedeva a Sasseta ed era un autista della CAP Secondo quanto spiegato dai carabinieri intervenuti sul posto l'uomo sarebbe deceduto dopo essere stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dal suo stesso fucile Secondo una prima ricostruzione il cacciatore sarebbe scivolato finendo in un dirupo e nella caduta sarebbe partito accidentalmente un colpo d'allarma che aveva con sé Il proiettile lo avrebbe raggiunto all'emitorace sinistro ferrendolo a morte A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti preoccupati perché non lo vedevano rientrare Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e su disposizione della procura trasferito all'istituto di medicina legale di Careggi Bene il patto per il tessile ma per il comparto restano ancora tanti nodi da risolvere A cominciare da una congiuntura sfavorevole Il presidente della federazione moda di confartigianato Moreno Vignolini fa un bilancio del momento tracciando le linee guida per il futuro Il patto per il tessile siglato nei giorni scorsi in regione sembra aver finalmente smosso l'annoso problema degli scarti tessili con l'individuazione di un impianto di smaltimento Un passo importante in attesa che anche le normative arrivino in soccorso delle imprese Venerdì abbiamo firmato in regione questo patto sofferto perché sono passati circa due anni da quando abbiamo iniziato le prime riunioni Ci sono stati degli scontri abbastanza accesi che però insomma hanno portato dopo tutto questo periodo alla firma di questo protocollo Ci sono degli impegni comuni da parte della regione, delle imprese e soprattutto di Alia che realizzerà questo impianto nel quale verranno conferiti i rifiuti e verrà fatta quella che è la caratterizzazione degli stessi per poter poi decidere quali avviare a smaltimento e quali rimettere nel ciclo produttivo Il settore tessile continua ad attraversare una fase di stagnazione, la congiuntura di fine 2019 è stata negativa e per il 2020 non si vedono segnali positivi Una situazione a cui si sommano anche altre questioni e problematiche locali Siamo in una situazione piuttosto particolare, veniamo da un 2019 dove la congiuntura è stata abbastanza negativa soprattutto negli ultimi mesi Le proiezioni nei primi giorni, nei primi mesi del 2020 sono preoccupanti, ancora non ci sono conferme importanti di ordini Se a tutto questo poi ci sommiamo quella che è la situazione nel nostro distretto, per cui la criticità del Gida, del Buzzi Lab E anche non dimenticandoci della questione delle certificazioni e dell'impatto ambientale che viene richiesto nei nostri prodotti Ecco, credo sia un momento in cui si debbano fare delle forti riflessioni per proiettare il nostro distretto verso il futuro Attivato il numero unico per le emergenze sanitarie intraospedaliere sarà in funzione da lunedì prossimo in tutti gli ospedali della Toscana Vediamo di cosa si tratta È stato attivato il numero unico per le emergenze sanitarie intraospedaliere Un numero nato per aumentare la sicurezza di tutti coloro che si trovano all'interno degli ospedali Pazienti, visitatori e operatori sanitari Il numero conosciuto solo da chi opera all'interno delle strutture ospedaliere Mette in moto la macchina delle emergenze nel caso che avvenga un evento traumatico Come una caduta, un infarto, un ictus o un peggioramento clinico di chi è già ricoverato in ospedale Grazie al numero interno la risposta sarà sempre più tempestiva Noi abbiamo messo insieme le procedure che c'erano in tutti gli ospedali Abbiamo identificato un numero unico regionale Siamo la prima regione che lo ha fatto Proprio per attivare un team multidisciplinare Che è preparato per organizzare la risposta a questi eventi Che potrebbero verificarsi all'interno degli ospedali Un elemento in più in sostanza di sicurezza Per chi dentro gli ospedali si trova per una situazione casuale Oppure per chi dentro gli ospedali è ricoverato Un nuovo modello d'emergenza ha partito in tutti e 43 gli ospedali toscani Dove sono stati creati team composti da professionisti In grado di garantire una risposta a queste emergenze H24 Il valore aggiunto è che il team dell'emergenza garantisce che il paziente venga preso in carico Precocemente e venga indirizzato in tempi estremamente rapidi Nel percorso di cura corretto Che può essere anche un percorso di rete Ovvero può essere anche che questo paziente Possa condurre il suo iter diagnostico e terapeutico anche in altri ospedali Quindi è fortemente integrato anche con il sistema di emergenza territoriale Nei prossimi mesi questo modello verrà monitorato e consolidato Grazie ad un sistema informatizzato e alla formazione per gli operatori coinvolti Grande successo per il nuovo appuntamento dei TED di Toscana Oggi Ospite dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio Ridotto del teatro Metastasio E il presidente dell'Opera dell'Uomo di Firenze Luca Bagnoli Allora vediamo l'intervista realizzata dal direttore di TV Prato Gianni Rossi Presidente quali sono i segreti per gestire e custodire un patrimonio così inestimabile Che i secoli hanno affidato all'Opera del Duomo? Ma guardi nessun segreto Tanto lavoro direi e soprattutto un'attenzione ai dettagli Sia nel rapporto con i dipendenti e le risorse umane Sia soprattutto con l'insieme di relazioni che interessano una chiesa, un monumento di quel tipo Si parla di Opera del Duomo ma giuridicamente si tratta di una fabbriceria Esattamente cosa si intende? Anche il titolo dell'incontro dei TED Ma guardi che fabbriceria è un po' un'istituzionalizzazione giuridica del termine fabbrica Perché alla fine le opere sono delle fabbriche Sono sempre state degli enti deputati a costruire e mantenere delle chiese Quindi con il concordato è stato riconosciuto il termine fabbriceria Direi assimilabile ai tempi di oggi a una fondazione Però con un funzionamento sui generi molto interessante direi anche per gli studiosi Non soltanto di storia dell'arte ma anche per i giuristi Questi enti sono spesso appannaggio di storici dell'arte Lei invece è un'economista, docente all'università Qual è la caratteristica della sua presidenza e del suo contributo? Ma intanto la ringrazio per questa domanda Che mi permette un po' anche di tipizzare il mio ruolo In realtà sono una sorta di soggetto chiamato a gestire gli storici dell'arte Quindi a capire in che modo tutte quelle competenze possano essere convogliate In una sorta di processo, me lo faccio a dire, aziendale di funzionamento quotidiano Di recente avete portato la porta del Battisterio L'ultima che è stata restaurata all'interno del grande museo dell'Opera del Duomo Quali sono i progetti che avete ancora in ponte? Ma guardi, novità ve ne sono molte Direi il primo in questo momento più importante È l'avvio del restauro della nostra pietà La pietà Bandini del Michelangelo Attraverso un intervento pubblico Nel quale i restauratori intervengono sull'opera E il pubblico può passare a vedere il lavoro dei restauratori Anche Prato ricorda Giulio Regeni A quattro anni dalla sua morte Sabato saranno inaugurate sei panchine gialle nei comuni della provincia In programma anche la proiezione di un docufilm e una fiaccolata in centro Vediamo Sei panchine gialle per mantenere vivo il ricordo di Giulio Regeni A quattro anni dalla sua scomparsa Sei oggetti simbolo per riportare alla memoria la vicenda del giovane ricercatore italiano Rapito e trovato senza vita in Egitto nel 2016 È l'iniziativa messa in campo dai comuni di Prato e della provincia Per lanciare un messaggio chiaro Le istituzioni sono vicine alla famiglia di Giulio Nella loro lunga battaglia per ottenere verità e giustizia Noi chiediamo al nostro governo attuale Come l'abbiamo chiesto ai governi precedenti E all'Europa di chiedere verità La verità è vera Che è un gioco di parole Al governo egiziano Capiamo anche i problemi che ci possono essere di ordine politico Anche economico Ma abbiamo diritto ad avere la verità E la verità viene avanti a tutti E questo è il messaggio che noi chiediamo al nostro governo e all'Europa L'inaugurazione è prevista per questo sabato 25 gennaio alle 12 Nei vari comuni coinvolti Proprio nel giorno dell'anniversario della scomparsa Le panchine saranno posizionate in zone molto frequentate da giovani, famiglie e bambini A Prato si troverà l'anfiteatro di Santa Lucia A fianco di ogni panchina sarà posizionata una targa commemorativa Abbattersi per la causa della famiglia Regeni Anche verità e giustizia per Giulio Regeni Il comitato di cittadini comuni nato a Vaiano E che negli anni è cresciuto Attraverso la pagina Facebook condivide contenuti e aggiornamenti E si occupa anche di inviare gadget gialli a chi ne fa richiesta La pagina serve continuamente a comunicare cose Serve continuamente a pubblicare post che riguardano anche iniziative In tutte quelle iniziative che vengono fatte da tutti i comuni o associazioni in Italia E la pagina è nata così per un nostro gesto di voglia di esserci Come vi spiegavo prima Ed oggi la pagina veramente ha dei numeri molto molto alti Perché proprio in questi giorni abbiamo superato i 40.000 followers Le iniziative proseguiranno sempre sabato in altri luoghi della città Alle 16 al Cinema Terminale in via Carbonaia Si terrà la proiezione ad ingresso gratuito del film documentario 9 giorni al Cairo E alle 19.20 in piazza del Comune ci sarà il ritrovo per l'accensione delle luci È il momento delle previsioni meteo linea al Consorzio Lama Un caloroso saluto a tutti e ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lama Ancora un vasto e robusto campo di alta pressione Domina la scena sull'Europa centrale e anche sulla nostra penisola Un minimo depressionario tra penisola iberica e nord Africa Tenderà a spostarsi lentamente verso la nostra penisola durante il fine settimana Ma andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di oggi Una giornata all'insegna del sole e del bel tempo Con venti deboli variabili nell'interno Di scirocco su costa e arcipelago fino a localmente moderati I mari sono mossi sui settori meridionali A largo poco mossi invece a nord di Piombino sotto costa Per quanto riguarda le temperature non sono attese variazioni Massime intorno ai 15 gradi su molte località di pianura Valori superiori alle medie stagionali Uno sguardo anche alla giornata di domani, venerdì Inizialmente cielo sereno poco nuvoloso Con nubi in aumento sulla costa In particolare sul settore meridionale Nella seconda parte della giornata cielo nuvoloso E in serata sono attese le prime piogge su arcipelago e zone costiere Forse anche qualche episodio di nevischio Sull'appennino intorno ai 1500 metri I venti sono di scirocco I mari sono in prevalenza mossi In serata anche molto mossi i settori meridionali Per quanto riguarda le temperature Queste non presenteranno variazioni di rilievo È tutto, grazie per l'attenzione Per questa edizione è tutto anche per noi Il Tg torna alle 20.30 Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti